Consegnata ufficialmente a Cristiano, Popi, Minellono la cittadinanza onoraria di Arona. Il conferimento è avvenuto venerdì sera, 25 ottobre. Cristiano Minellono, detto Popi, è tra i più grandi parolieri e autori televisivi italiani ed internazionali. È nato ad Arona il 27 marzo del 1946 e poi ha trascorso l'infanzia a Stresa. Minellono ha scritto per Totokuto... ...fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki.